Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Sanseya Awakening secondo video dedicato al personaggio di Manigoldo in uscita mercoledì prossimo ora è presente nel duello sacro dove lo possiamo testare senza cosmi chiaramente con tutte le sue limitazioni del caso ma più lo provo e più mi piace questo personaggio un personaggio davvero davvero duttile che fa un sacco di cose ma le fa davvero bene perché? Perché è un tank, perché cura, perché si buffa, perché debuffa e perché fa un danno davvero notevole vi faccio vedere un replay di una partita di oggi, una delle ultime che ho fatto per farvi capire un po' la meccanica del personaggio e quanto è resistente e davvero interessante dunque amici partiamo con il replay Siamo contro a un Artemide in Brilliance quindi perderò al turno 1 subito Underwarshun perché sarà il main target dell'avversario perché forse ha sottovalutato la forza di Manigoldo e forse perché aveva paura di prendersi qualche spadata sul muso da Shura Divino Vedete, turno 1 io perdo subito Underwars non skillo con Kanon perché tengo il mana per Pandora e per Saga Surplice vado di dimensione oscura con la sua esplosione galattica in regalo eccola qui e poi attivo gli strati di spirito che costano 1 una volta attivati gli strati di spirito vedremo come facendo danni attiveremo le sfere di fosforo che sono la chiave per far funzionare questo personaggio più danni facciamo agli avversari, ogni 20% ad ogni personaggio attiviamo una sfera di fosforo e attivando una sfera di fosforo con un cap di 15 quindi 3 per personaggio faremo danni spropositati e ci cureremo ora lui parte con Fish e ci sta decimando il team Pandora è in soglia morta adesso il prossimo che ci lascerà sarà Saga Surplice riuscirà a lanciare la seconda esplosione galattica vedete come a fine turno quando l'ultimo personaggio dell'avversario attacca il nostro Manigoldo farà una UE e attiverà un sacco di sfere di fosforo ora siamo pronti per lanciare gli strati di spirito che costano 3 mana siamo 3 contro 6 con con leggera sofferenza ma vedete come resiste il nostro Manigoldo ed ora via di teoria adesso no Pandora eh Pandora eh Artemide ci attacca ancora eh Underworld sbagliando ma ora tocca a noi quegli strati di spirito e guardate cosa succede Team di Mezzato ci prendiamo in faccia l'Aoe di Thanatos ma ora loro sono tutti debuffati perché quando noi facciamo esplodere le sfere di fosforo debuffiamo eh l'avversario dei suoi danni vedete fine turno esplosione ancora dei Aoe e altre strati di spirito e GG guardate i danni rispetto a Shura e agli altri miei DPS davvero davvero un personaggio interessante fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi un commento qui sotto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina supportate il canale con un like e noi ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se lo pullate eh ciao ciao